Dall'Assemblea è venuta fuori la certificazione di quello che dichiaravamo, cioè che la città è in una valuta, in una situazione di stallo, che comunque questa amministrazione non rappresenta la città, almeno la città che voleva e che vuole cambiare. Per cui il tema è, che bisogna dirlo con estrema chiarezza alla città, che perché l'amministrazione torni a casa, ci sono due strumenti veri, che sono uno, le dimissioni del sindaco, due, le dimissioni contestuali e contemporanee davanti alla segretaria generale e non davanti al votaio, di almeno 17 consiglieri. Questo significa che tre consiglieri di maggioranza, almeno tre consiglieri di maggioranza, sfiduciano l'amministrazione e sfiduciano il sindaco. È chiaro a questo punto che quello che noi diciamo, cioè che l'amministrazione è a capolinea e che ha agito male, è una certificazione, un riconoscimento, per cui chiaramente partecipare responsabilmente a questa fase è la scelta che ha preso l'Assemblea.